C'è stato il motivo che ti ha spinto a votare per quello per cui hai votato? Sperando che il mondo cambi. E per la città pensi che sia il candidato ideale che hai indicato per la scelta del sindaco? Penso di sì. Avevi un'indicazione? Hai votato semplicemente quello che avevi votato l'altra volta? No, è la prima volta che voto. Quindi è stata una prova anche al voto? Sì, ovviamente non per chi si è espresso, però si è seguito il voto e... Ha seguito il voto tutto apposta. Ha seguito tutto il programma sempre delle votazioni. Delle elezioni? Sì, sì, sì. Quindi ha scelto il candidato sulla base di una sua idea maturata nel tempo? Maturatissima. Ha seguito quindi le elezioni attraverso l'informazione in televisione? Sì, sì, sì. In continuità col passato, secondo lei, il voto di Torino oppure ci sarà uno scarto notevole? È un'impressione che ci sia un po' di scarto, ecco, nel senso che ci sia un po' di... non sia troppo legato al passato. Poi chiaramente sono opinioni perché è così una cosa intuitiva, secondo me. Perché secondo lei l'amministrazione precedente ha lavorato in maniera non egregia? Io devo essere sincera, non ho proprio seguito, non sono stata dietro la faccenda, però ho l'impressione che quando si presenta comunque un candidato più giovane e più innovativo, secondo me, si vada in automatico da quella parte. Poi, le ripeto, sono opinioni per cui tutto può essere, ecco. Come ha seguito questa tornata elettorale? Ma allora, guardi, io l'ho seguita più che altro proprio negli ultimi giorni, ecco, nel senso che per lavoro e per altri motivi non sono proprio stata dietro la faccenda. Poi negli ultimi giorni ho un po' valutato, insomma, cosa poteva essere la scelta più giusta per quanto mi riguarda, ecco. Non l'ho seguita troppo da vicino, però. Secondo lei è mancata l'informazione in merito alle amministrative o è stata parziale, è stata incompleta? Ma secondo me, allora, per quel che mi riguarda c'è stata abbastanza informazione, anche se io personalmente sarei partita ancora un po' prima, proprio per dare la possibilità alle persone più che altro di riflettere, di valutare, non fare magari tutto un po' velocemente, ecco. Cosa dovrebbe fare per prima cosa, secondo lei, il futuro sindaco? A cosa dovrebbe dare importanza? Beh, io penso sicuramente ai problemi che comunque ci sono a livello, secondo me, di immigrazione, di comunque case popolari, soprattutto emergenze abitative, scuole che a volte hanno dei problemi di struttura. Secondo me c'è da stare dietro soprattutto quelli che sono i servizi sociali come priorità, ecco. Grazie.